il testo è tratto dal libro quaderni dal 1945 al 1950 di maria valtorta edito dal centro editoriale valtortiano 20 febbraio 1945 non so come farò a scrivere tanto perché sento che gesù si vuole presentare col suo evangelo vissuto ed io ho sofferto tutta la notte per ricordare la visione seguente della quale ho scarabocchiato le parole udite come potevo per non dimenticarle tempo di persecuzione una delle più grandi persecuzioni perché i cristiani sono torturati in masse non presi singolarmente il luogo è la cavea di un circo si chiamano così insomma è un locale certo sito sotto le gradinate del circo e adibito al ricovero dei gladiatori bestiari eccetera eccetera di tutti gli addetti al circo insomma premetto che dirò male i nomi perché sono 35 anni che non leggo nulla di storia romana e perciò in questo locale ampio ma scuro perché a luce solo da una porta spalancata su un corridoio che certo porta all'interno del circo e forse all'esterno del medesimo e da una finestrella direi una feritoia bassa a livello del suolo del circo da cui vengono rumori di folla sono ammassati molti e molti cristiani di ogni età dai bambini di pochissimi anni ancora fra le braccia delle madri e due per quanto sui due anni ancora poppano all'esausta mammella materna ai vecchi cadenti e vi sono anche dei gladiatori già con l'elmo e quella relativa corazza che difende e non difende perché lascia scoperte ancora parti vitali quali il giugolo e le parti dell'addome all'altezza e posizione del fegato e della milza indossano questa parziale armatura sulla nuda pelle ed hanno in mano la corta e larga daga fatta quasi a foglia di castano sono bellissimi uomini non tanto per il volto quanto per il corpo robusto e armonico di cui noto ad ogni movimento il guizzare agile dei muscoli alcuni hanno cicatrici di vecchie ferite altri non mostrano nessun segno di ferita parlano fra loro e rilevo che devono essere di paesi sottomessi a roma prigionieri di guerra certo perché non usano che un latino molto bastardo e pronunciato con voce dura e gutturale quando si rivolgono ai cristiani che in attesa della morte cantano i loro dolci e mesti inni un gladiatore alto quasi due metri un vero colosso biondo come il miele e dai chiari occhi di un azzurro grigio miti pur fra tanta ombra di ferro che riflette sul suo volto la visiera dell'elmo si rivolge ad un vecchio tutto vestito di bianco dignitoso austero io ancora ascetico che tutti i cristiani venerano col massimo rispetto padre bianco se le bestie ti risparmiano io ti dovrò uccidere così è l'ordine e me ne spiace perché in pannonia ho lasciato un vecchio padre come te non te ne dolere figlio tu mi apri il cielo e da nessuno nella mia lunga vita avrò mai avuto dono più bello di quello che tu mi dai anche nel cielo luogo dove certo è il tuo dio come nel mio vi sono i nostri dei ed in quello di roma ai loro ancora è morte e lotta vuoi tu ancora soffrire per odio di dei come qui soffri il mio dio non è che solo nel suo cielo egli regna con amore e giustizia e chi là perviene non conosce che eterno gaudio l'ho udito dire da più e più cristiani durante questa persecuzione e ho detto ad una fanciulla che mi sorrideva mentre calavo su lei la daga e ho finito di ucciderla ma non l'ho uccisa per salvarla perché era tenera e bionda come un'erica giovinetta dei miei boschi ma non m'è servito di qui non la potei portare fuori e giorno dopo ai serpenti fu dato quel corpo di latte e rosa l'uomo tace con aspetto mesto che le hai detto figlio chiede il vecchio ho detto lo vedi non sono cattivo ma il mio mestiere sono schiavo di guerra se è vero che il tuo dio è giusto digli che si ricordi di albulo mi chiamano così a roma e si faccia vedere col suo bene mi ha detto sì ma è morta da giorni e nessuno è venuto finché non sei cristiano dio non ti si mostra che nei suoi servi e quanti di essi ti ha portato ogni cristiano è un servo di dio ogni martire un amico tanto amico da vivere fra le braccia di dio oh molti e io non solo io anche dacio e il lirico e anche altri di noi tristi nella nostra sorte siamo stati presi dal vostro giubilo e lo vorremmo voi siete in catene noi no ma neppure il soffio ci è libero se cesare lo vuole ecco ci incatenano l'alito dandoci morte ti fa ribrezzo parlarci di dio è l'ultima mia gioia della terra figlio ed è ben grande ti benedica gesù mio dio e maestro per essa sono prete albulo ho consumato la vita nel predicarlo nel portare a lui tante creature e più non speravo di avere questa gioia odi e il vecchio a lui e agli altri gladiatori assiepatisi intorno ripete la vita di Gesù dalla nascita alla morte di croce e dice schematicamente le necessità essenziali della fede parla seduto su un masso che fa da banchina pacato solenne tutto un candore nei capelli lunghi nella barba mosaica nella veste tutto un ardore nello sguardo e nella parola si interrompe solo due volte per benedire due gruppi di cristiani tratti nell'arena per essere gettati in giochi nautici in pasto ai coccodrilli poi riprende a parlare tra il cerchio dei robusti gladiatori quasi tutti biondi e rosei che l'ascoltano a bocca aperta si chiama crisostomo quel dottore della chiesa ma che nome dare allora a questo che non si nomina termina dicendo questo l'essenziale da credere per avere il battesimo e il cielo le voci robuste dei gladiatori una decina fanno rimbombare la volta bassa lo crediamo dacci il tuo dio non ho nulla per aspergervi non una goccia d'acqua o altro liquido e la mia ora è giunta ma troverete il modo no dio me lo dice un liquido è pronto per voi i cristiani ai leoni ordina il sorvegliante tutti il vecchio prete in testa dietro gli altri fra cui le madri sul cui seno si sono addormentati i pargoli entrano cantando nell'arena che folla che luce che rumore quanti colori è gremita inverosimilmente di popolo d'ogni ceto nella parte che il sole invade vi è popolo più basso e rumoroso nella parte all'ombra vi è il patriziato toghe e toghe ventagli di struzzo gioielli conversazioni ironiche a voce più bassa al centro della parte all'ombra il podio imperiale o il suo baldacchino corpureo la sua balaustra infiorata e coperta di drappi e i suoi sedili soffici per il riposo del cesare e dei patrizi e cortigiani suoi invitati due tripodi in oro fumano ai lati estremi della balconata e spargono essenze rare i cristiani vengono spinti verso la parte al sole dimenticavo una cosa al centro dell'arena è un non so come dirlo è una costruzione in marmo da cui salgono al cielo zampilli sottili impalpabili di acqua e sulla piattaforma di questa costruzione di un ovale allungato alta un due metri scarsi dal suolo sono statuette di dei in oro e tripodi in cui ardono incensi sono davanti ad esse i cristiani sono dunque ammassati dalla parte solare faccio uno schizzo come so i leoni rompono il vecchio prete si avanza solo per primo abbraccia tese parla romani per i miei fratelli e per me pace e benedizione gesù per la gioia che ci date di confessarlo col sangue vi dia luce vita eterna noi di questo lo preghiamo perché grativi siamo della porpora eterna di cui ci vestite col un leone ha preso il balzo dopo essersi avvicinato strisciando quasi al suolo e lo atterra e azzanna alla spalla la veste di capelli di neve sono già tutti rossi è il segnale dell'attacco bestiale la torma delle fiere a balzi si lancia sul gregge dei miti una leonessa con un colpo di zampa strappa ad una madre uno dei pargoli dormenti ed è così feroce la zampata che asporta parte del seno della madre e si rovescia forse lacerata fino al cuore sulla rena e muore la belva a colpi di coda e di zampa difende il suo tenero pasto e lo sgranocchia in un baleno una piccola macchia rossa resta sulla sabbia unica traccia del pargolo martire mentre la belva si alza leccandosi il muso ma i cristiani sono molti e le belve poche in confronto e forse già sazie più che divorare uccidono per uccidere atterrano sgozzano sventrano leccano un poco e poi passano altrove ad altra preda il popolo si inquieta perché manca la reazione nei cristiani e perché le bestie non sono feroci a sufficienza urla a morte a morte anche l'intendente a morte non sono leoni questi ma cani ben pasciuti morte ai traditori di roma e di cesare l'imperatore dà un ordine e le belve vengono ricacciate nei loro antri vengono fatti entrare i gladiatori per il colpo di grazia la folla urla i nomi dei preferiti albulo illirico dacio ercole polifemo tracio e altri ancora non sono solo i gladiatori ai quali ha parlato il vecchio martire che agonizza nell'arena con un polmone quasi scoperto da un colpo di zampa ma anche altri che entrano da altre parti albulo corre al vecchio prete la gente dice fallo soffrire alzalo che si veda il colpo forza albulo ma albulo si china invece a chiedere al vecchio qualcosa e avuto un cenno di assenso chiama i compagni che hanno prima udito parlare il vecchio prete non riesco a capire ciò che fanno se si fanno benedire o che avviene perché i loro robusti corpi fanno come un tetto sul vecchio prostrato ma lo capisco quando vedo che una mano senile già vacillante si alza sul gruppo di teste strette l'una all'altra e le asperge del sangue di cui si è fatta piena come una coppa poi ricade i gladiatori spruzzati di quel sangue scattano in piedi alzano la daga che brilla nella luce urlano forte ave cesare imperatore i trionfatori ti salutano e poi ratti come un fulmine corrono a quella costruzione che è in mezzo al circo balsano su essa rovesciano idoli e tripodi li calpestano la folla urla come impazzita chi vorrebbe difendere il gladiatore preferito chi invoca morti atroce ai novelli cristiani che per loro conto tornati sull'arena stanno allineati sereni magnifici come statue di giganti con un sorriso nuovo sul volto fiero cesare un brutto obeso cinico uomo incoronato di fiori e vestito di porpora si alza fra la corona dei suoi patrizi tutti in vesti bianche solo alcuni hanno una balza rossa la folla fa silenzio in attesa della sua parola cesare che sia non so questo viso rincagnato e vizioso tiene tutti in sospeso per qualche minuto poi rovescia il pollice in basso e dice vadano a morte per i compagni i gladiatori non convertiti che intanto hanno sgozzato i malvivi cristiani con la metodicità con cui un beccaio sgozza gli agnelli si rivoltano e con la stessa automatica freddezza e precisione aprono ai compagni la gola al giugolo come manipolo di spighe che la roncola taglia stelo a stelo i dieci neocristiani aspersi del sangue del prete martire si fanno veste di porpora eterna con loro sangue e cadono con un sorriso diversi guardando il cielo in cui si inalba il loro giorno beato non so che circo sia non so che età del cristianesimo non ho dati vedo e dico ciò che vedo io non ho mai messo piedi in nessuna arena o circo o colosseo perciò non posso dare il menomo indizio per la folla e la presenza del cesare direi essere a roma ma non so mi rimane nel cuore la visione del vecchio prete martire e dei suoi ultimi battezzati e basta ora poi e sono le undici vedo questo segue il capitolo 113 che inizia ripetendo le quattro righe iniziali dello scritto di questo giorno dell'opera all'evangelo della stessa opera seguono ancora con date dal 21 al 28 febbraio 1945 i capitoli da 114 a 120